2 Vai, 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 veloce 3 calcetti Vai con le mani, eh E' una ginastica, ragazzi Tutta a sinistra 1, 2, 3 Pronti? Vai con le mani 1, 2 1, 2, 3 3 calcetti Vai Luigina Giro Luigina è facilissimo come ballo 1, 2 1, 2, 3 Pronti? E' via Ditto 1, 2 Vai con il giro 3 calcetti 1, 2, 3 Vai con le mani, pronti? Via Francesco 1, 2 1, 2 1, 2, 3 Pronti con le mani Pronti con le mani Via Mi raccomando Prenotate per l'ultimo dell'anno Ragazzi Vai con le mani, pronti? Vai con le mani, pronti? Vai con il giro 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Sono qui Sono qui E' vicino a Perla 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Uno, due, bella, disco sa